Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sul tratto appenninico fare attenzione, possibili nevicate tra Aglio e la variante di Valico e tra Rioveggio e Barberino del Mugello. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve-Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Val Savignone. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!